Da ritrovati in questa nuova puntata di confronti proseguiamo quello che è il tema già affrontato la scorsa settimana, ovvero il disegno di legge che oggi arriva proprio nell'aula del Consiglio Provinciale di Trento per costituire questa consulta che dovrà andare a mettere mano allo Statuto di Autonomia. Come di consueto lo facciamo in compagnia di due consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, ve li presento, Gian Piero Passamani per l'OPT, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. E Nario Giovannazzi, Ministro del Trentino, buongiorno. Grazie per essere qui, comincio con Passamani, parliamo di questa consulta, che importanza ha l'approvazione e la formazione di questo organismo che dovrà andare a mettere mano a una cosa fondamentale per noi, qual è lo Statuto di Autonomia? Guardi, di straordinaria importanza, ovviamente di temi che arrivano nel massimo vertice legislativo, cioè la provincia per quello che ci riguarda, sicuramente lo è. Ovviamente, insomma, è anche un atto dovuto per quello che riguarda il momento, nel senso che comunque di fare una revisione su quello che riguarda la Regione ce n'è bisogno di questo, penso che tutti ne siamo d'accordo. Prova ne sia che il 90% dei consiglieri o meglio di capigruppo hanno firmato questo disegno di legge, che appunto andrà in aula da oggi. C'è da dire, insomma, che il vento che tira a livello romano sicuramente non è dei migliori, insomma, tutti i giorni troviamo degli attacchi, degli attacchi purtroppo pesanti per quello che sono in generale tutte le Regioni a Statuto Speciale. Io credo, insomma, che invece dobbiamo assieme, di fatti la consulta, questo senso qua, assieme lavorare non solo quello che è la parte, ovviamente, politica amministrativa, ma anche come lo è, la consulta sarà formata anche dalla società civile. La società civile che porterà il suo contributo, il suo contributo che è stato determinante nella storia, perché l'autonomia l'ha sicuramente pensata e disegnata dei personaggi storici, che andiamo a ricordare sempre, li ricordiamo con affetto e anche con forte sincerità per quello che ha potuto dare, però soprattutto è stato grazie a quello che è il modo di operare nel Trentino, il Trentino attuale, in particolar modo, sì che tutte le associazioni, tutti quelli che sono quel mondo di volontariato, che ci caratterizzano anche rispetto al resto d'Italia. Detto questo, insomma, chiaramente l'importanza, perché? Perché comunque sia nella convinzione che anche quello che abbiamo dimostrato con un buon governo appunto della provincia autonoma di Trento e di Bolzano, ha portato sicuramente di forti risultati. Io lo sono convinto, l'ho sempre dichiarato anche nei vari miei interventi, sia sulla stampa che anche in aula, che comunque sia questo sistema, un sistema da esportare, non da cassare come qualcuno in sedia romana vorrebbe, sta percorrendo. Lo dico perché il buon governo, insomma, ha dimostrato, insomma, efficienza, ha dimostrato forti risposte su tutti i campi, sicuramente io credo, insomma, che questo è un modo di lavorare. Su quello che riguarda, ovviamente, il cambiamento ci deve essere, deve essere una regione molto più snella, deve essere innanzitutto un asse al 100% con Bolzano, ma io direi anche andare oltre i confini, che in Sbruck, sicuramente, su quello che riguarda il Tirolo, insomma, questo è quello che noi dobbiamo lavorare assieme, è nata con questo sistema appunto su due livelli separati, se vogliamo, fra Trento e Bolzano, ma comunque sia, questa era una strada che diversamente non potevamo percorrere, ma già è un buon punto di partenza per far veramente crescere e fare un cambiamento della regione, perché comunque sia, come ripeto, è un modello di esportare e non sicuramente da eliminare. Torno alle sue prime parole, è firmata dal 90%, Nario Giovanazzi, anche lei l'ha firmata, però non è completamente d'accordo su questo testo? Io sono fra i firmatari di questo disegno di legge per la Costituzione della Consulta, non l'ho fatto con entusiasmo, io avrei preferito sinceramente che ci fosse stata una partenza assieme a Bolzano, già questo nota, mette in evidenza le differenze, ritengo comunque che sia un passaggio importante, proprio perché c'è il coinvolgimento, partendo dal basso, della gente partendo dal basso, questo è un fatto molto importante. Purtroppo, devo dire, l'avvio di questo confronto a Bolzano non è che abbia dato dei bei segnali, perché è tornato riemerso il discorso, sono riemersi le nostalgie, praticamente l'autodeterminazione, il secessionismo, madre patria, e credo che non sia una buona carta di presentazione per quanto riguarda poi il percorso che questa proposta dovrebbe fare per arrivare a Roma. Noi abbiamo bisogno sicuramente di rafforzare e mettere in evidenza le nostre peculiarità e credo che un Paese si arricchisca anche attraverso proprio le peculiarità, rafforzamento delle peculiarità dei territori. Noi dobbiamo fare in modo che rimangano alcune risorse anche sul territorio. Io parlo ad esempio dell'energia, dovrà essere un problema che dovrà essere sicuramente affrontato e difeso, perché proprio per lo sfruttamento idroelettrico noi abbiamo anche sacrificato un po' il territorio e oggi si guarda a questo settore con interesse perché naturalmente produce anche ricchezza. Credo anche che non ci sia un'idea chiara del ruolo che dovrà svolgere la Regione. La Regione si è sempre considerata, è inutile nasconderlo, si è sempre considerata la Regione un soggetto istituzionale cuscinetto fra Trento e Bolzano. In effetti la Regione è stata svuotata di competenze, sono rimaste le competenze ordinamentali per quanto riguarda i comuni, eccetera, il welfare, qualche parte del welfare, ma in pratica, sospinta soprattutto di Bolzano, è stata svuotata la Regione ed oggi nessuno è in grado di dire cosa potrà svolgere la Regione in futuro. Io però credo che si debba, mi passi questo termine, inventare qualche cosa proprio perché il soggetto Regione deve rimanere. Deve rimanere. Noi abbiamo sempre fatto una battaglia proprio a difesa della Regione perché credo che nel momento che dovesse sparire la Regione si creerebbero due realtà completamente diverse e non nascondo il mio modesto parere anche che se si creasse una situazione di questo tipo sicuramente la posizione di Bolzano, di Trento, si indebolirebbe. Ecco, e concludo per dire che abbiamo anche delle difficoltà, l'ho accennato anche il collega Passamani, non abbiamo più a Roma i referenti di una volta, non abbiamo più gli Andreotti, i Cossiga, i Berlofa che conoscevano la storia dell'autonomia e sapevano l'importanza che poteva rivestire l'autonomia all'interno di un contesto anche nazionale e oggi mirano ad avere dalle regioni autonomi soldi. Uso questo termine soldi perché dà l'immediatezza. Ecco, il confronto è solo sulle risorse. Se guardiamo, noi abbiamo fatto un percorso che non è perché vogliamo autolodarci, ma credo che abbiamo fatto un percorso diverso rispetto ad esempio a Sicilia che continua a chiedere soldi anziché mandarne alla sede centrale, continua a chiederne e noi invece credo che abbiamo dato un contributo sia per quanto riguarda i trasferimenti in sede romana ma anche per quanto riguarda la crescita di un territorio perché questo territorio in questi anni non è inutile a negarlo è cresciuto e la differenza si nota insomma. Di autonomia sotto attacco si parla già da parecchi anni ormai e spesso si va proprio a colpire l'aspetto economico della cosa si parla dei nove decimi delle tasse in realtà con uno sbilanciamento delle competenze secondo lei bisognerà mettere mano anche a rivedere insomma le percentuali che vanno a Roma e che rimangono a Trento? Di fatto bisogna dire che questo lo è già nel senso che comunque dal patto di Milano e anche dall'accordo di Roma sottofirmato dal Presidente Rossi e dal Presidente Compaccia abbiamo portato altre competenze sicché non ho un conto matematico preciso ma penso che siamo più vicino ai 6 decimi che ai 9 decimi perché con le competenze che abbiamo chiaramente stiamo coprendo delle specie che altrimenti le altre regioni che non sono a stenduto speciale ovviamente sono a carico totalmente dello Stato sicché voglio dire che questo di fatto è stato già fatto che dire? C'è da dire una cosa che ovviamente lo Stato ha messo le mani in tasca a chi ce li ha insomma questo è il vero dramma perché quello che è stato il prelievo che abbiamo concorso al risanamento della finanza nazionale è stato sicuramente pesante ma solo noi potevamo fare ma questo dimostra ancora una volta l'abbiamo fatto anche volentieri non sicuramente con entusiasmo insomma però comunque è stato fatto nel senso che comunque sia comunque ha un senso il Trentino se c'è anche l'Italia che va bene insomma in questo senso qua sì che ben venga chiaro che come dicevo prima dobbiamo assolutamente rafforzare l'asse Trento-Bolzano dico questo perché io intravedo senza parlare del passato un rapporto molto più stretto di due presidenti in questo momento io mi auguro che questo sia del buon auspicio per far sì questo veramente di fare il lavoro d'assieme perché sono il rischio altissimo per tutti noi come citava giustamente il collega ovviamente che le due province vanno su due strade separati la regione perché non ha nessun senso è chiaro che deve essere una regione molto snella e anche io e tra l'altro la mia relazione avevo segnalato quel mondo dell'energia perché anche dal mio punto di vista l'energia è una delle competenze che deve essere della regione perché ovviamente bisogna cercare delle competenze che siano che abbiano un senso per vicinanza limitrofa anche perché altrimenti voglio dire a volte ci troviamo a discutere leggi sugli enti locali con due livelli totalmente diversi questo lascia un po' il tempo che trovo da un certo punto di vista insomma perché i problemi dei comuni trentini non sono i problemi dei comuni bonzanini insomma no? dell'Alto Adige e allora questo per dire insomma che ovviamente ci sono delle competenze che hanno un senso che esistano a livello appunto totale della regione autonoma Trentino-Alto Adige ecco credo molto in questo rafforzamento che ci aiuti poi a dialogare ovviamente col Tirolo insomma ecco questo senza ombra di dubbio insomma questo per quello che riguarda a livello romano non c'è dubbio che nei tempi che furono insomma avevamo dei forti collegamenti dal mio punto di vista abbiamo delle persone comunque responsabili che stanno lavorando anche oggi che ci possono aiutare su questo però non solo con la parte economica ma giustamente portando avanti quello che è il valore culturale di cosa vuol dire autonomia che sicuramente non è solo esclusivamente cinque decimi nove decimi che ovviamente le fanno parte integrante perché poi come tutte le cose insomma camminano anche dal punto di vista finanziario ma altrettanto ovvero bisogna capire il perché siamo messi così e questa cultura dobbiamo farla capire anche fuori noi non possiamo creare invidia al vicino Veneto al vicino Lombardia se pensiamo il PIR che produce la Lombardia o che produce il Veneto con il nove decimi o cinque decimi facciamo il calcolo che vogliamo dipende le competenze ma restiamo su un conto matematico di nove decimi sarebbero due regioni effettivamente che possono fare molto meglio dal punto di vista delle entrate che il Trentino per quello che riguarda chiaro che dopo di che ci vuole cultura perché dico questo per fare il buon governo perché altrimenti insomma è ovvio che dipende come lavori sul territorio perché questi soldi pochi o tanti che siano vengono usufruiti in un modo preciso e sicuramente accurato sempre a favore dei cittadini perché questo è il senso che ha per politica che vuol dire popolo secondo lei cosa può fare il governo locale diciamo qui sul territorio Trentino Alto Alige a fronte anche di rappresentanti a Roma che possono essere più o meno efficienti ma davanti a un governo accentratore possiamo agire da qui in qualche modo per far rispettare la nostra autonomia Guardi Bozzano ha cercato di rivolgersi ancora a Vienna invocando l'accordo di Gasperi Gruber la tutela di che Vienna aveva firmato la liberatoria dopo la conclusione del secondo statuto questo sicuramente non è un segnale confortante perché se Bozzano ha fatto questo vuol dire che a Roma non ci sono aperture se consideriamo che ne dica qualche parlamentare anche locale che mira più alla tenuta del governo che agli interessi della regione in questi giorni si parla non so se è già venuto la nomina al ministro degli affari regionali di Costa che è promotore di un disegno di legge per la soppressione delle province a statuto speciale questo sicuramente non è che è un segnale confortante e cioè da Roma diciamo che si guarda all'autonomia come un popolo privilegiato e molte volte le campagne elettorali sono state impostate proprio fuori da questo territorio sulla soppressione delle province a statuto speciale e cioè guardando più secondo me sono politici che non conoscono la storia ecco e mi passa questo termine anche qualche avventuriero avventuriero che specula su come posso dire un patrimonio che è stato creato negli anni con sacrifici con ricordiamo anche inutile nasconderlo i periodi degli attentati eccetera e proprio perché prima facevo accenno ad Andreotti a Cossiga questi momenti loro li hanno vissuti e hanno compreso perfettamente il valore di questo traguardo che è stato raggiunto e perciò si sono anche schierati a difesa non condividendo naturalmente alcuni passaggi torno a dire dove è stato usato il tritolo per capirci ecco non condividendo questo ma credo che anche questo passaggio sia significativo per sottolineare quello che è l'importanza della dello Stato nel quale noi oggi ci troviamo è quello che abbiamo raggiunto insomma qualcuno quando parla di autonomia non sa cosa sa solo pronunciare la parola e mi permetta non è che oggi la difendiamo con i canederli eccetera ecco bisogna porsi su un piano un piano diverso e devo anche dire vedo che ha mutuato collega Passamani ha mutuato quello che io dico spesso in consiglio e cioè che noi oggi non abbiamo più i nove decimi del trasferimento delle risorse perché se consideriamo tutto quello che ci siamo presi in carico e che prima di prenderselo in carico erano impegni che doveva assolvere lo Stato ecco i decimi si riducono sicuramente però credo che anche questo sia un segnale che rafforza la capacità di dimostra di avere come posso dire rafforzare la capacità di autogoverno perciò lo vedo anche in positivo ecco questo questo passaggio che è avvenuto in questi anni e anche devo dire che la commissione di 6 di 12 ha fatto un bel lavoro bel lavoro perché ha svolto quel ruolo di cuscinetto anche qui mi permette di dirlo fra regione provincia regione e stato e governo secondo lei la riforma dello statuto che è quello che poi dovrà andare a fare questa consulta che si va a nominare aiuterà l'autonomia oppure la metterà a rischio no secondo me cioè il percorso che si è deciso di fare sì ma secondo me lo aiuterà anche perché io credo che non ci possano essere scelte fatte dai vertici e cioè che assuma molto più peso e importanza un processo che avviene attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle persone devo dire che in questi ultimi anni si è dato tutto per scontato e cioè quello che si è ottenuto si è dato per scontato oggi si si rende conto che questo non è vero e cioè oggi dobbiamo diventare tutti protagonisti prenderci in carico un pezzettino di responsabilità per difendere quello che abbiamo ottenuto e per guardare di migliorare la nostra situazione e credo appunto che il coinvolgimento delle persone se sarà questo processo di coinvolgimento sarà guidato perché altrimenti il popolo poi va per conto proprio se sarà un po' guidato questo processo credo che produrrà sicuramente degli effetti positivi e rafforzerà la nostra posizione nei confronti della sede centrale del governo chiedo a Passamani a prescindere dal discorso sulla consulta qual è il clima all'interno del suo partito l'UPT a seguito di questo congresso che ha visto l'elezione di Mellarini come segretario dove si guarda e come lo vede il futuro di questo partito ma intanto sono ore di forte riflessione perché chiaramente è inutile negare insomma delle difficoltà insomma di questa sorpresa perché normalmente insomma in un congresso si partecipa c'è chi vince c'è chi perde non siamo le comunali non siamo le provinciali dove c'è la maggioranza e la minoranza normalmente insomma si lavora all'interno ci ha un po' sorpreso insomma questa uscita di Sena di Lorenzo Dell'Aia una persona insomma che è adatto molto al Trentino e io sono convinto che può darlo ancora con il lavoro che può svolgere a Roma abbiamo citato anche prima insomma il rapporto con Roma penso che avere un rappresentante di statura di questo livello può essere utile detto questo chiaramente per quello che riguarda il futuro è un futuro che comunque mi sento di dire molto positivo lo dico perché ho avuto la fortuna e la volontà di girare tutte le territoriali e devo dire che ho trovato un popolo vicino a noi insomma che si è svegliato che ha ripreso a partecipare alle serate come si sa non è facile far uscire le persone la sera insomma per quello che riguarda in particolar modo a parlare di politica ma devo dire insomma che tutte le territoriali hanno trovato un grande entusiasmo e questo sicuramente ci dà la spinta per continuare anche perché l'Unione per il Trentino ha fatto prima Margherita prima Popolari prima Democrazia Cristiana penso che ha scritto più di una pagina importante per quello che riguarda il Trentino e non solo e credo insomma che il futuro dobbiamo impegnarci per far sì che queste pagine insomma siano ancora rose come è stato insomma per la storia del Trentino perché insomma io credo che c'è anche la riconoscenza per chi ha fatto ma poi bisogna anche guardare in futuro e collaborare perché comunque nessuno è eterno io credo insomma che ognuno di noi possiamo dare il nostro contributo ognuno con la propria umiltà e le proprie capacità perché comunque questo è il modo di operare per chi lavora in mezzo alla gente cioè al popolo io vi ringrazio vi lascio andare ai lavori del Consiglio grazie Naria Giovanazzi grazie Gian Piero Possamani grazie a lei grazie a voi per averci seguito ci fermiamo qui per questa puntata di Buongiorno da RTTR torniamo domattina alle 7 con la rassegna stampa buona giornata grazie a tutti